Campagne nella morsa della siccità, rischio olivi, viti e frutteti, col diretti lancia l'allarme, si corre ai ripari con le autobotti per salvare animali e produzioni, non era mai successo in tutta la regione. Superlavoro dei pompieri a Pergola va in fiamme, un grosso deposito di balle di fieno, a San Costanzo al fuoco divora un campo di grano battuto da poco. Arrestata ad Ancona una latetante cinese responsabile di truffe miliardarie, a Pesaro fermate tre persone per furto, due sono poco più che bambini. Nuova luce su via del fiume sulla pista ciclabile Fano Fenile, domani sera all'inaugurazione con una pedalata. Campo scuola, cinque palestre, quattordici piste polivalenti, il comune di Pesaro affida la gestione ad Asi e alla cooperativa T41B. Musica per tutti i gusti, arte e stand gastronomici nelle vie e nelle piazze di Saltara, grande successo per la ventesima edizione di Saltarua con oltre 2.000 persone. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. In primo piano la crisi idrica che sta mettendo in forte difficoltà gli agricoltori. Molti stanno facendo ricorso alle autobotti per salvare gli animali e le produzioni a rischio olivi e viti ma anche frutta e ortaggi. Questa mattina Filippo Pucci ha raccolto l'allarme e l'appello lanciato da Tommaso Di Sante, presidente di Coldiretti di Pesaro Urbino. Le campagne del nostro territorio ancora sotto la morsa della siccità. Senza piogge ormai da settimane, con le temperature ben sopra la media, nei campi marchigiani e provinciali un po' tutte le culture sono in sofferenza, tanto che alcune aziende hanno deciso di ricorrere alle autobotti. A lanciare l'allarme è la Coldiretti Pesaro Urbino. Di Sante, chi ne ha sentito maggiormente di questo caldo? Beh, la difficoltà è su tutte le culture. Ovviamente partiamo di chi ne ha più bisogno come l'orticoltura, ma il girasole quest'anno purtroppo in tutta la sua produzione vegetale non ha mai avuto pioggia, quindi è un paradosso. L'erba medica ha avuto uno sfalcio due in meno a seconda delle zone, quindi anche le stalle sono in forti difficoltà, perché anche gli animali con le alte temperature, perché oltre all'assenza di pioggia, siamo vittime di temperature più alte della media, quindi anche gli animali in stress idrico o in stress di alte temperature producono anche meno latte, quindi le difficoltà sono tante e le aziende stanno subendo dei grandi danni. A farne le spese sono anche gli oliveti e i vigneti che nella nostra provincia possono contare su una produzione di altissima qualità, come l'olio extravergine di oliva e le docche del vino. Pure orti e fruttetti risentono del caldo, ma anche delle condizioni meteoverse. Le alte temperature in questo momento stanno facendo dei danni ulteriori, perché la pioggia non c'è da tanto tempo, dove è arrivata su certe zone nelle Marche ha creato danni, perché poi ci sono questi eventi anche, nel senso che ci sono delle bombe d'acqua o grandinate e quindi i danni sono anche maggiori. Qual è la fotografia nella nostra provincia e quali soluzioni si potrebbero adottare? Da anni che diciamo che bisogna intervenire nella gestione dell'acqua come bene comune, perché di fatto purtroppo dalle reti dei comuni, che hanno perdite veramente importanti, anche il 40%, è chiaro che nella zona nostra, a parte la diga di mercatale eccetera, che andrebbe ripulita per aumentare la capacità d'acqua, non abbiamo altri invasi. Quindi con i fondi del PNRR bisogna lavorare in maniera preventiva, bisogna rendersi conto che questa situazione ormai non è più straordinaria, ma avviene ogni anno e quindi quando ci sono queste bombe d'acque, con piccoli invasi, tutelando quindi l'ambiente, bisogna cercare di cooptare l'acqua piovana. Una situazione ogni anno sempre più grave, aggiunto poi Di Sante. Un periodo così siccitoso non si era mai visto. A mio padre pur non anziano, 68enne, gli è successo di piantare in diverse annate i vigneti nuovi, ma innaffiare vite per vite, come stanno facendo altri colleghi, non è mai successo. Quindi munirsi di autobotti per portare l'acqua o nelle stalle o in altre parti di aziende dove l'acqua non c'è, non è mai successo nella zona né regionale né provinciale di Pesaro Urbino. Per concludere, da alcune settimane si è conclusa la stagione della trebbiatura, anche qui com'è andata? Anche i cereali un po' ne hanno risentito, qualitativamente abbiamo le proteine molto alte, i pesi specifici rispetto agli anni scorsi sono un pelino più bassi e la quantità ha avuto un calo del 15-20%, quindi anche qui un calo di produzione con i costi maggiorati nella produzione, perché di fatto il gasolio agricolo se a novembre lo pagavamo 64 centesimi, adesso come aziende agricole lo paghiamo 1,50 euro al litro, quindi i costi aumentano in maniera stellare e purtroppo i guadagni diminuiscono. Momenti di paura nel comune di Cingoli in provincia di Macerata, dove una bambina di 7 anni è caduta in un pozzo coperto da tavole di legno. Sono stati subito allertati i soccorsi. Un pompiere si è calato nel pozzo e ha imbragato la bambina che poi è stata trasportata nelle ambulanze al torrette di Ancona. Non è in pericolo di vita. Un grosso incendio è scoppiato alle 11 in un fienile di Madonna del Piano nel comune di Pergola. Ad andare in fiamme è stato un intero deposito di balle di fieno situato in mezzo ad un piazzale. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Cagli, Fano, Pesaro, Arcevi e Ancona. Da quanto si apprende i pompieri sarebbero riusciti a mettere in salvo l'attrezzatura presente nel capannone, il resto sarebbe andato completamente distrutto. Vigili del fuoco in azione anche a Cerasa di San Costanzo per un incendio divampato intorno alle 14.30 in un campo di grano già abbattuto e in prossimità di via Il Colle. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale. Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta nel rovo. Nel trentesimo anniversario della strage di via D'Amelio, la regione Marche ha ricordato con una cerimonia il magistrato Paolo Borsellino e i cinque agenti della scorta caduti a Palermo per l'attentato terroristico e mafioso. Trent'anni fa la strage di via D'Amelio, oggi la commemorazione nel piazzale intitolato Emanuele Loi. Lei, Assessore Saltamartini, ha conosciuto il giudice Borsellino? Sì, l'ho conosciuto, conosco i suoi figli, il figlio è un collega, dice questo, della polizia di Stato. Lo ricordo proprio consapevole nel corso di un incontro per la formazione della polizia giudiziaria a Marsala, lui era stato appena nominato procuratore. Ricordo che dalla nomina di Borsellino nacquero poi tutte le polemiche che portarono il CSM a non nominare Falcone all'ufficio istruzione, preferendo il dottor Meli. Lui, sia Falcone che Borsellino, erano perfettamente consapevoli che correvano il rischio della vita, avrebbero potuto scegliere un'altra sede giudiziaria, non lo fecero, sono rimasti in Sicilia e credo che noi ci dobbiamo ricordare di questo sacrificio, proprio perché è un esempio per tutti noi. Dopo quelle stragi lo Stato ha sicuramente reagito, ma ancora oggi ci sono ombre molto consistenti sui depistaggi, sui fenomeni grigi, per non dire altro, che hanno seguito alla strage e con evidente il dubbio che pezzi dello Stato non siano stati proprio del tutto addempienti ai loro doveri. Una verità giudiziale, riconosciuta, un accertamento di fatti sui depistaggi che indiscutibilmente dopo ci sono stati ancora oggi non c'è. Ancora cronaca, si è conclusa nelle ultime ore la latitanza di una cinese di 35 anni ricercata in campo internazionale dalle forze di polizia per aver perpetrato truffe miliardari ai danni di più soggetti, sia pubblici che privati. La donna, consapevole delle accuse mosse nei suoi confronti dalle autorità cinesi, nel settembre 2019 aveva lasciato suo paese per sfuggire alla cattura. Nelle prime ore del mattino, grazie al lavoro degli uomini della squadra volante e della squadra mobile della questura, la donna è stata intercettata in un albergo anconetano e arrestata. La 35enne, che aspettava di imbarcarsi in un traghetto diretto in Grecia, è stata portata nel carcere femminile di Villa Fastigi in attesa dell'estradizione in Cina, dove sconterà una pena di 10 anni. Invece domenica scorsa, alle prime luci del mattino, la polizia di Pesaro è intervenuta in un hotel del lungomare a seguito della segnalazione di una donna di origine straniera che sosteneva di essere rimasta vittima del furto del proprio cellulare. Dagli accertamenti poi è emerso che la donna, dopo aver passato la notte con un uomo, anche gli stranieri conosciuto in una chat, a suo risveglio si era accorta della sparizione di quest'ultimo, del cellulare e del suo denaro. I poliziotti, grazie agli elementi forniti e a un meticoloso lavoro di investigazione, sono riusciti a risalire all'identità dell'uomo, già noto le forze dell'ordine, che è stato denunciato in stato di libertà. Nella circostanza, inoltre, si è scoperto che l'albergatore non aveva registrato la coppia tra gli ospiti della struttura, quindi contravenendo a quanto disposto dalla normativa. Poliziotti al lavoro, anche sulla denuncia, asporta da un pakistano residente a Pesaro per il furto del proprio monopattino elettrico che aveva lasciato parcheggiato nel centro commerciale Miralfiore. Anche grazie alla visione delle telecamere di videosorveglianza e alla collaborazione degli operatori della vigilanza privata, sono stati rintracciati gli autori intenti ad asportare un altro monopattino. I responsabili del furto e del tentativo sventato sono due minorenni, poco più che bambini, i quali hanno ammesso le loro responsabilità facendo recuperare il monopattino del cittadino straniero. Domani sera, con una pedalata notturna, verrà inaugurata la nuova illuminazione della pista ciclabile Fano Fenile. Nel 2018 abbiamo inaugurato la pista ciclabile Fano Fenile grazie all'importante intervento della provincia in collaborazione col Comune di Fano. A distanza di qualche anno, domani, proprio domani sera alle 21 presso la quercia del Belgatto, arriveremo ad inaugurarne l'illuminazione. L'illuminazione è molto importante perché non solo metterà in sicurezza tutte le persone che l'attraversano, sia a piedi che in bicicletta, ma perché è proprio un segno anche di civiltà. Sempre più andiamo verso una mobilità sostenibile anche per salvaguardare il nostro pianeta, da quelli che sono gli inquinamenti dei motori. Per cui, avanti tutta, invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare. Si tratta di nuovi 60 punti luce a LED. È un intervento importante anche sul profilo energetico, quindi c'è un importante risparmio, ma sicuramente dopo la pista ciclabile verso Fosso Segliore questo è il secondo intervento importante. Contemporaneamente a questo verrà accesa anche via del fiume, con i 20 nuovi punti luce, anche quelli necessari per il ricongiungimento di quello che era un'illuminazione mancante. Un incidente si è verificato alle 8.30 nella zona dell'aeroporto a Fano. Un 51enne di Morciano alla guida di un camion proveniente da Strada San Michele si è immesso nella via del campo di aviazione senza dare la precedenza ad una Fiat Panda. L'auto era condotta da una sesantenne di cartoceto che è stata portata al pronto soccorso di Fano ed è stata giudicata guaribile in 30 giorni. Sul posto, oltre alla polizia locale, sono intervenuti i vigili del fuoco perché l'auto era alimentata a metano, una ditta specializzata per la pulizia della strada e il 118, provocati dei disagi alla circolazione per circa un'ora. Invece alle 13.30 in via 4 Novembre all'altezza dell'intersezione con via Verri, un 49enne di Fano ha perso il controllo della Fiat Punto andando a sbattere contro un Audi guidata da una fanese che stava rallentando per esigenze della circolazione. Nessuno è dovuto ricorrere alle cure mediche. Cambiamo argomento, l'ASI di Pesaro Urbino e la cooperativa sociale T41B sono i nuovi gestori del campo scuola di Pesaro di 5 palestre e 14 piste polivalenti. L'accordo è stato presentato ieri mattina in comune. Promuovere attività ed eventi e migliorare e accrescere i servizi è questo l'obiettivo della sinergia tra il Comitato Provinciale di ASI, la cooperativa sociale T41B e l'amministrazione comunale di Pesaro che aveva indetto una manifestazione di interesse per la gestione di 20 impianti sportivi. Ora le due realtà, grazie ad una coprogettazione, si occuperanno del campo scuola di Villa San Martino, delle palestre Carducci, Turati, Palatré, Ledi, Marecelletta, più 14 piste polivalenti. Abbiamo costruito un'associazione temporanea di imprese, ha spiegato la presidente di ASI Francesca Petrini. Noi abbiamo un'esperienza pluriennale nell'ambito della gestione di impianti e della promozione sportiva, mentre la T41B ha competenze in ambito sociale e di manutenzione del verde, rendendo possibile l'inserimento lavorativo di diverse figure con qualche tipo di fragilità. Infatti, come ha dichiarato Michele Gianni, presidente della cooperativa, verranno attivati dei tirocini, ma anche i progetti di utilità collettiva destinati ai beneficiari del reddito di cittadinanza. Sull'attività sportiva, dove noi come ASI siamo più specializzati, al campo scuola abbiamo già riattivato l'Educamp, che era qualche anno che era assente dal campo scuola e questa settimana sempre sta partendo il camp sportivo di calcio della Raffaella Manieri. Sulle altre palestre in realtà ci sono già attività, intendiamo portare avanti quello che tutti gli anni veniva fatto, quindi lo stesso programma più o meno annuale delle varie società sportive, fra basket, piuttosto che ginnastica dolce o altre realtà, verrà portato avanti. Quindi noi come ASI, dove magari ci sarà qualche buco negli orari, potremmo proporre qualcosa di nostro, però in realtà il nostro lavoro sarà quello di portare avanti e gestire queste attività che già erano strutturate gli scorsi anni. L'ASI è una realtà che sta crescendo di anno in anno, sia a livello locale che nazionale, offrendo affiliazioni e tesseramenti a tutte le società sportive, l'iscrizione e registro del CONI, consulenza e formazione. Quindi, come sottolineato dalla Presidente Petrini, può essere di supporto e di aiuto alle tante associazioni sportive che utilizzano i vari impianti. Di fatto ci sarà un occhio in più sulle piste polivalenti, che sono i classici campetti di quartiere, quindi di fatto non vuol dire che quei campetti non potranno essere utilizzati dai cittadini, ma potranno essere utilizzati con un occhio in più da parte, diciamo, di una società che gestisce quelle piste per l'amministrazione comunale, quindi una retina che è stata rotta, una staccionata che si è rotta. Quindi ci sarà chi provvede in autonomia alla sostituzione. Per quel che riguarda il campo scuola, aumenteranno le attività che sono lì, aumenterà il presidio e la presenza delle persone che gestiranno e custodiranno quello che diciamo è il patrimonio dell'amministrazione comunale, ma è il patrimonio di tutti. Stessa cosa per gli impianti sportivi, nel caso specifico si parla di cinque palestre che avranno una gestione diretta da parte di questo soggetto. Buone notizie in arrivo per il comparto ittico, perché il sottosegretario al MIPAF, Francesco Battistoni, ha reso nota la pubblicazione del decreto attuativo per la presentazione delle domande sul fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura. Infatti sono stati stanziati 20 milioni di euro destinati alle imprese di questo settore che stanno affrontando una grave crisi legata al Covid e alla guerra russo-ucraina. L'invio delle domande per accedere ai contributi può essere effettuato solamente online sul sito del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Il portale informatico dedicato alla procedura sarà disponibile fino alla mezzanotte dell'8 agosto. Ed ora parliamo della mancata cura del verde, perché dopo le numerose lamentele da parte di residenti e turisti per la situazione di degrado in cui versa l'area dell'ex distributore di carburante nella frazione di Ponte Sasso lungo la strada nazionale adriatica, il Movimento 5 Stelle di Fano ha depositato un'interpellanza per chiedere alla Giunta Seri se la gestione di quella zona sia in capo all'amministrazione comunale o a terzi, quali iniziative intendano assumere ed infine quando verrà sottoposta la discussione del Consiglio Comunale l'approvazione della localizzazione di un nuovo impianto di telefonia mobile appunto a Ponte Sasso. Ha riscosso un grande successo di pubblico la ventesima edizione di Saltarua andata in scena venerdì scorso a Saltara di Colli al Metauro. I più grandi successi dei Queen proposti in veste sinfonica, ma anche il blues, il jazz e il pop in un sound innovativo e melodie antiche rivisitate attraverso i suoni frutto di anni di ricerca e passione. La musica è stata la protagonista indiscussa di Saltarua, l'evento giunto alla ventesima edizione, organizzato venerdì scorso dopo tre anni di stop, nelle vie e nelle piazze del castello di Saltara. La manifestazione, organizzata dalla Proloco e dal comune di Colli al Metauro, ha accolto oltre duemila persone. E non poteva mancare la presidente di questo gruppo di ragazze davvero, come dire, competitive anche, eh? E con tanto entusiasmo e voglia di fare. Allora, un bel evento che questa sera vi raduna tutte quante. Sì, esatto. Abbiamo creato un bel gruppo e siamo molto soddisfatti per questo. Volevo ringraziare l'amministrazione comunale che ci ha sostenuto, il Consiglio regionale, tutti i volontari che ci hanno dato una mano e soprattutto gli sponsor. Oltre ai concerti in Piazza Garibaldi e nei vicoli del castello è stata riproposta anche la Galleria degli Artisti, uno spazio espositivo dedicato ai creativi emergenti. Mancabili poi gli stand gastronomici con gustose proposte per tutte le esigenze. Ad esprimere soddisfazione il sindaco Pietro Briganti. Questa sera ci sarà il coronamento di una fantastica serata. C'è tantissima gente. Vedo che gli stand sono pieni. È caldo anche qua su, ma circola un po' d'aria. Di conseguenza vediamo il mare da qua su, vediamo le nostre colline dentro terra. Siamo in un paese fantastico, un borgo fantastico che è il Borgo di Saltara e quindi perché no passare una serata agliettata da questa bellissima musica di Queen suonata dall'orchestra Rossini ed è un motivo per poter uscire e visitare questo bellissimo Borgo di Saltara. Il Circolo Acli di Sant'Andrea in Villis in collaborazione con l'Associazione Genitori a Pito, l'Oasi dell'Accoglienza e la Parrocchia di Finile organizzano un'iniziativa dal titolo Tra fare arte, prima esposizione di hobby, creatività, ingegno e passione. L'evento ad ingresso libero si svolgerà sabato 23 e domenica 24 luglio dalle ore 16 e 30 alle 20 all'Acli di Sant'Andrea. Verranno esposte opere varie di pittura, scultura, fotografia, letteratura, poesia e origami. E con questa notizia chiudiamo qua il nostro telegiornale. L'appuntamento invece per domani mattina è quello con occhio ai giornali condotto da Massimo Foghetti e quindi arrivederci domani sera. Grazie a tutti.